Il centro di Torino ha ospitato l'edizione primaverile 2021 di Flor, Kermes dedicata al Flor Vivaismo. Quali sono state le novità? La novità è un ritorno in realtà, siamo tornati nei giorni scorsi dove siamo nati, quindi via Caralberto, questo ci riempie di gioia perché significa che la situazione sta tornando a normalità. Noi siamo stati l'ultimo evento l'anno scorso prima della chiusura, siamo contenti di essere il primo grande evento della riapertura della città, con tutte le dovute cautele ovviamente, adesso io non ho la mascherina, qui siamo a distanza, mascherine, distanziamento, e di ricominciare con i fiori, con le piante, riempendo di nuovo la città di piante e di fiori, via Caralberto, via Prince Medeo, piazza San Carlo che avevamo conquistato l'anno scorso e che teniamo. Questo secondo me è un bellissimo modo di, ne siamo convinti, ma ne sono convinti anche le decine e decine di migliaia di persone che sono passate, è un bellissimo modo di iniziare. Dove sono state le novità? Le piante da interno, secondo me durante la pandemia, durante il lockdown, le persone hanno sentito questo bisogno fortissimo di circondarsi di piante, e quindi c'è un grande ritorno delle piante da interno, le classiche mostere, sterlizie, ipotos, insomma piante anche molto semplici, piante che un tempo si usavano e andate un po' in disuso, e adesso c'è questo ritorno alle piante, si cerca di costruire un piccolo bosco, una piccola foresta all'interno della propria casa. Questo è una cosa, e c'era già negli anni scorsi, secondo me la pandemia, soprattutto, ripeto, il lockdown ha dato una grossa accelerazione a questa tendenza. Hai parlato anche di Forestopia, che cos'è? Forestopia è un tentativo di continuare il nostro lavoro, noi facciamo due grandi eventi, ovviamente, a maggio e a ottobre, vogliamo continuare a riempire la città di piante, perché questo secondo noi rende felice le persone, e quindi Forestopia è un progetto in cui tenteremo di mettere piante dovunque possibile, con l'aiuto dei cittadini, dei commercianti, delle scuole, e quindi tutto l'anno, insomma con l'amministrazione comunale e con i soggetti della città, tenteremo di, in ogni luogo, aggiungere piante, dovunque possibile, non soltanto nei parchi o in collina, ma anche in mezzo alle vie, nelle scuole, nei cortili.